Io so benissimo chi ha incontrato le aziende mafiose poco prima delle elezioni del 2016, parole dure, anzi durissime, quelle che l'ex sindaco di Vittoria Giovanni Moscato non è riuscito a tenersi dentro ieri, forse anche per la rabbia, quando ha incontrato la stampa per ribattere punto su punto all'ultima sentenza del Tarlazio che conferma lo scioglimento del Comune per mafia, dal bando della raccolta differenziata al mercato ortofrutticolo di Contrata Fanello con l'assegnazione dei 6 box per poi finire ai sussidi e ai bonus nei servizi sociali. A tutto questo ha già replicato in passato, ieri invece l'ex sindaco ha comunicato il proprio pensiero riguardo il rigetto del Tar che vuole che Vittoria resti commissariata in pratica sulle scrivanie del ministero, che era quello che doveva decidere, le memorie difensive di Moscato non sarebbero mai arrivate. Si tratta di circa 200 allegati in 1500 pagine, un lavoro minuzioso dove apparivano anche i nomi e i cognomi di chi realmente incontrò le aziende mafiose per la propria campagna elettorale. Ma soprattutto in quelle 1500 pagine c'era anche tutto il lavoro compiuto da Moscato in due anni per debellare la mafia da Vittoria. Tutto questo era stato consegnato al Tar ma non sarebbe mai aggiunto a destinazione al ministero, al tribunale di Ragusa e a quello di Catania. L'unica cosa che è giunta sono due semplici paginette riassuntive utili come relazione finale, una situazione di cui Moscato è venuto a conoscenza solamente dopo il ricorso al Tar visto che gli era negato accedere agli atti. Ho letto con molta calma e serenità la sentenza che in una paginetta e mezza aggiunge Moscato rimuove la storia di Vittoria perché parte da alcuni dati, esiste la mafia e la mafia non è stata debellata. Vi sono al suo interno ben tre riferimenti a cose del passato che non riguardano la mia amministrazione. Vi è invece la critica al fatto che la mia amministrazione abbia scelto la gara pubblica per affidare il servizio di gestione dei rifiuti. La legge sullo scioglimento dei comuni per mafia è un autentico fallimento, aggiunge Moscato. Se infiltrazioni mafiose c'erano allora, attendevamo la risposta dello Stato con l'incremento del personale delle forze di polizia, con l'arrivo dell'esercito invece nulla. L'assurdo è che hanno rigettato il nostro ricorso con due pagine di motivazioni ma non hanno tenuto conto delle nostre contradduzioni perché la legge non lo consente, non c'è contraddittorio. Probabilmente, aggiunge Moscato, ci siamo trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma pare chiaro che questa città doveva essere colpita.